Benvenuti in una nuova controrassegna stampa delle notizie meno diffuse in Italia dai media euroatlantisti. Iniziamo dalla reazione parzialmente riportata dalla stampa principale italiana, soprattutto nella parte dei titoli e sottotitoli degli articoli, in rete dei principali media nazionali del bel paese, quindi allineati ovviamente all'euroatlantismo. La reazione del Cremlino di Mosca del potere russo, quindi da Putin in giù, al ritiro di Biden alla corsa alla Casa Bianca, quindi negli Stati Uniti d'America. Dice il portavoce della fortezza centro dei poteri, delle cerchie più importanti della Federazione degli Undici Fusiorari, Dmitry Pieskov. La Russia ha altre priorità, cioè ci sono cose molto più importanti per Mosca, piuttosto che aspettare i risultati delle elezioni presidenziali a Washington americane. Il portavoce del Cremlino sostanzialmente umilia l'importanza degli Stati Uniti geopoliticamente, quantomeno dei risultati dell'elezione e dello scontro, ormai possiamo dirlo, tra Kamala Harris e Donald Trump del Partito Democratico e il Repubblicano, i due principali schieramenti. Poi ci sono anche i centristi libertari, che però si fermano sempre intorno al 2-3% dei voti a livello nazionale. Il conflitto, la vittoria nel conflitto ucraino è la più grande priorità oggi, o comunque tra le più importanti invece per la Federazione Russa. Ha detto lo stesso Pieskov da Mosca alla agenzia stampa locale LIFE. Per noi, continua Pieskov, la vittoria, il raggiungimento degli obiettivi militari nell'operazione militare speciale in Ucraina è la priorità assoluta al momento, dal punto di vista della politica estera militare, sicuramente. E quindi Pieskov si è accodato alle dichiarazioni dell'inizio d'inizio anno 2024 del presidente Vladimir Putin, ovviamente, che aveva detto, ricorderete, per la Russia è una questione di felicità avere magari Biden vittorioso alle elezioni presidenziali di novembre. Questo non è più possibile, ovviamente. Biden, secondo Putin, ricordiamolo, è una persona molto più prevedibile nelle politiche estere rispetto a Trump. Questa è la versione ufficiale, poi quello che c'è dietro è un'altra questione. Quindi le elezioni stanno da qui a quattro mesi, dice Pieskov, chiude Pieskov il portavoce del Cremlino capitanato da Putin, dal presidente Putin ovviamente. In quattro mesi, dice Pieskov, possono succedere tutte le cose del mondo possibili. Tutto può cambiare un tempo molto lungo ancora di campagna elettorale accesissima negli Stati Uniti d'America. La reazione al passo indietro, all'inciampo forse di Joe Biden, della Sakharova, portavoce del Ministero degli Esteri Russo. Hanno nascosto chi i media, le cerchie politiche più importanti, soprattutto quelle più globaliste, democratiche, americane e la realtà sullo stato di salute mentale di Joe Biden, dell'attuale presidente. La Sakharova ha scritto questo su Telegram, quindi in rete, medium sociale. I media americani, dice la russa, e le cerchie democratiche delle grandi famiglie non si chiamano oligarchie come in Russia o in Ungheria. Tenete d'occhio questa cosa, la propaganda occidentale, ci sono delle propagande contrapposte, come sappiamo, soprattutto nei conflitti armati. Comunque dice la Sakharova, i media americani allineati, così come le cerchie, come le famiglie Biden, Clinton, Obama, hanno cercato e continuano a manipolare l'opinione pubblica negli Stati Uniti, ma anche in tutto il resto dell'Occidente. E' scomparso Biden, qual è il commento al passo indietro di Biden, al comunicato stampa su Twitter, su X, e neanche una diretta, un video alla nazione del presidente americano per questo passo fondamentale e storico. Modern Hemsat, quindi a destra nazional conservatrice ungherese, filo orman, filo governativa. Scomparso Biden, è stato nascosto dai democratici, soprattutto da Pelosi, Obama, ma anche altri. E' arrivata Kamala Harris, spuntata dal cappello letteralmente. La Casa Bianca si è limitata a diffondere, come ho detto, un documento scritto, firmato. Qualcuno mette in dubbio anche la veridicità della firma di Biden, addirittura in America, come ho visto al canale Tim Pool. C'è anche chi ha scritto nelle cerchie repubblicane che c'è bisogno assolutamente di prove dalla parte dei democratici, quindi di Biden in prima persona, della sua stessa esistenza. Se è ancora in vita, non si sa dove è andato a finire da quando ha preso il Covid ufficialmente. Tre dipendenti della cerchia stretta di Biden hanno detto ai giornalisti, alla stampa, che il presidente non si fa vivo letteralmente di persona davanti ai riflettori delle telecamere perché non crederebbe alla vittoria di Kamala Harris su Donald Trump, addirittura. Un'America nel caos, possiamo dire, dal punto di vista non solo sociale, ma anche quindi politico, soprattutto dalla parte del Partito Democratico, almeno in questi giorni. Continuano le mobilitazioni forzate, le razzie dei commissari militari, della polizia, ai danni dei disertoni, un po' in tutta l'Ucraina. Nel silenzio della stampa lineata europeista, NAFO, italiana, che parla di democrazia UE, quella di Zelensky a Kiev, a differenza di quello che succede in Ungheria, ad esempio nella piena ipocrisia e doppiopesismo, che conosciamo, la guerra deve andare avanti sostanzialmente. Queste immagini non vengono mostrate soprattutto dal servizio pubblico italiano, ma anche dalle televisioni principali private a livello nazionale, nel bel paese, nella penisola. Ci sono degli episodi, queste immagini arrivano da Kiev, dalla capitale, forse la prima volta che mostrano M1, la televisione pubblica ungherese, immagini dalla capitale di mobilitazioni forzate, anche a Denipro addirittura delle, letteralmente delle risse tra donne, che cercano di salvare gli uomini di famiglia dalla mobilitazione forzate, a Denipro, ricordo, quindi una parte centrale, anche occidentale, nella capitale, nel centro nord. Dei posti di blocco, soprattutto in Transcarpazia, quindi ai confini con i paesi dell'Unione Europea. Un ex parlamentare ucraino, Igor, come potete vedere in basso dal fotogramma, addirittura definisce l'Ucraina di oggi dove vive, come una nuova DDR per la fuga. E poi le vittime anche di chi cerca di fuggire dalla leva obbligatoria, e quindi i colpi sparati dalle guardie di frontiera verso la Moldavia, verso la Romania, l'Ungheria, come sto raccontando in questo canale negli ultimi mesi. E per chiudere l'episodio drammatico di militari che sfondano con i fucili, fisicamente, letteralmente, il vetro di un guidatore, disertore, e lo caricano a forza, ferendolo per portarlo all'addestramento militare. Poi, forse nei casi più gravi, al fronte dopo qualche settimana. Voltiamo pagina, ma non troppo. Slovacchia e Ungheria hanno avviato una procedura, quindi una specie di denuncia, per ora solo consultiva, di consultazione in Unione Europea, Bruxelles, per il comportamento scorretto secondo Bratislava e Budapest, ne ho parlato in questo canale negli ultimi giorni, il blocco totale, ormai possiamo dire, del greggio del petrolio russo Lukoil, in transito in Ucraina verso Slovacchia e Ungheria, quindi verso l'Unione Europea, lo scandalo dell'oleodotto druzba dell'amicizia boraccia, in varie lingue. Dice il ministro degli esteri di Orban, di Budapest, ho parlato telefonicamente col mio omologo ucraino, Kulieva, Dimitro Kulieva, che ha detto, ha rassicurato, non ci sono problemi, il greggio continua a passare in Ucraina verso l'Ungheria. In realtà, dice Siat, non è assolutamente vero, bugia. Dice il ministro ungherese, questa questione non è politica, ma infrastrutturale, fisica. La decisione legale, politica, ideologica, Ucraina mette a rischio la sicurezza energetica di due paesi membri UE. Un terzo delle importazioni di greggio in Ungheria arriva dalla russa Lukoil. In Slovacchia il 45%, non sto parlando, non stiamo parlando di petrolio russo in generale, ma dalla sola Lukoil, un'azienda quindi, di Mosca. La reazione è difficile a questa questione dell'oleodotto, dell'amicizia, tra virgolette amicizia. L'Ucraina, lei stessa per prima non riceverà dei prodotti petroliferi, come per esempio gasolio e benzina per le famiglie ucraine, in Ucraina. Perché? Perché le sanzioni ucraine unilaterali contro Lukoil, il mancato transito verso la Slovacchia e l'Ungheria, porteranno l'azienda in mano ungherese Mol della Slovacchia, Slovnaft, a non poter lavorare il petrolio russo con cui lavora interamente. Un decimo della produzione slovacca va a finire in Ucraina. Sostanzialmente gli ucraini si danno un po' la zappa sui piedi, secondo almeno la prospettiva di Bratislava. Nel mentre l'Ucraina blocca il petrolio verso questi due paesi UE, la stessa Ucraina, il potere, la politica, non parlo del popolo, delle persone ovviamente, chiede corrente elettrica ancora di più agli stessi paesi dell'Unione Europea, del fianco orientale UE. 9 gigawatt è la scarsità e la quantità di corrente elettrica che manca ogni giorno in Ucraina, per questo ci sono i famosi blackout, rotazioni, quindi pause nella fornitura di corrente elettrica, le famiglie, le imprese ucraine. Il Ministero ad hoc dell'energia di Kiev ha chiesto aiuto a Romania, Slovacchia, Polonia e Ungheria proprio per la fornitura di elettricità. I polacchi e i rumeni diranno prevedibilmente di sì. Si, Arto Peter, Ministro degli Esteri Ungherese su Facebook, come potete vedere. Bruxelles e molti paesi dell'Unione Europea, governi ovviamente, incolpano, additano, snobbano, umiliano e trattano male la beca e missi, la missione di pace di Orban Victor che è andato a parlare anche con Putin, insieme a Trump nonché con la Nato, a Washington, a Kiev, con Zelensky, ricorderete tutti. Cosa scrive il Ministro di Budapest? Cosa è successo da allora però? Quali sono i successi di questa missione? Il Ministro degli Esteri Svizzero ha incontrato Lavrov, l'omologo russo. I ministri della difesa russo-americano si sono parlati per ben due volte al telefono, per la prima volta anche e soprattutto. Zelensky ha parlato telefonicamente con Trump, l'ex presidente, forse futuro presidente americano. I nostri amici europei, scrive Sidiarto, stanno portando invece avanti uno sciocco e bambinesco, infantile, boicottaggio degli incontri informali dei ministri degli esteri UE, soprattutto quello che si deve tenere nella capitale ungherese Budapest. Vi porto poi anche la curiosa reazione di una parlamentare del Bundestag tedesco, Jessica Tatti del partito ex D-Link, oggi di Sarah Wagenknecht, di sinistra quindi, ex comunista, post comunista, fate voi, che ha criticato Scholz, il cancelliere tedesco, SPD socialdemocratico, e ha elogiato Orban Viktor, primo ministro ungherese nazionale conservatore Fidesz. Perché qual è il tema? Ovviamente la corsa al riarmo europeo contro il pacifismo storico di quella sinistra che molte volte non c'è più, e il rischio, la volontà anzi, di portare alla famosa escalation globalistica, escalatio, all'allargamento del conflitto in Ucraina. Quindi molto meglio, anche per l'ex D-Link, l'approccio di Orban in questo tema di politica estera, guerra pace rispetto a Scholz. Curioso. Quindi non solo ufficio a sinistra, a parole positive per il primo ministro ungherese. L'Ungheria ha bloccato ufficialmente la proposta polacca di tenere il prossimo consiglio dei ministri degli esteri UE in Ucraina occidentale, a riferirlo il ministro degli esteri polacco europeista Radoslav Sikorsky, quello di grazie Stati Uniti, con la foto del gasdotto nel Baltico Nostri, bombardato a settembre 22. Il consiglio informale non a Budapest, ma a Bruxelles deve tenersi per una soluzione di compromesso in favore magari anche dell'Ucraina. In realtà è una misura più forte consigliata da Sikorsky stesso, come lui stesso dice a mezzi stampa. Magari a Lemberg, al VIV, cioè a Leopoli, nell'Ucraina occidentale, però andrebbe bene anche a Bruxelles, purché non si faccia nella capitale ungherese, che è bello. Sikorsky ha poi avvertito l'Ungheria che se questo incontro dei ministri UE avverrà in Ungheria, la Polonia boicotterà l'incontro. Come si diceva una volta in un detto ungherese-polacco, polacchi-ungheresi, due buoni amici, topratanchi o ketioborati in polacco o in ungherese, vale per i popoli ancora oggi, non proprio per i governi, diciamocela tutta sinceramente. Il gruppo di Vichagrad che fu. L'Azerbaijan. Secondo l'Azerbaijan è pericoloso, è in precedente pericoloso quella decisione dell'Unione Europea, bloccata da Orban Victor, dall'Ungheria un'altra volta, nella giornata di ieri, di fornire nell'ambito del quadro della pace europea, quindi fondi militari per aiutare militarmente l'Armenia nello scontro freddo-caldo a tratti con l'Azerbaijan per il Nagorno-Karabakh. 10 milioni di euro in armi da lui, da Bruxelles, proprio a Yerevan. Anche qui lo stop, il blocco, il no, il veto ungherese. Microsoft in colpa forse, punto di domanda come titolo questo articolo ungherese, l'Unione Europea, la Commissione Europea, per il caos degli ultimi giorni a livello planetario, comunque dell'Occidente, non in Russia, non in Cina, guardate caso, a livello cibernetico, dei sistemi operativi Windows, i più popolari al mondo sicuramente. L'Unione Europea avrebbe, secondo l'accusa Microsoft, dato accesso al kernel, al cuore, il sistema operativo Windows, per una forzatura dell'Unione Europea contro l'azienda fondata a Bill Gates, nel lontano ormai 2009. Accusa molto pesante. Parigi, prima delle Olimpiadi, che stanno per iniziare, sempre una capitale transalpina, le autorità hanno portato via, cacciato migranti illegali e poi anche senza tetto, scrive e riporta la Bill tedesca. Quindi le autorità, che parlano di accoglienza, di arricchimento culturale, diversità, inclusione, eccetera, non guardano di buon occhio poi queste minoranze oppresse all'occorrenza, quando bisogna creare una bella copertina per la capitale francese, una capitale immacolata, simbolo dell'europeismo che funziona, secondo la solita narrativa europeista, anche e soprattutto del presidente Macron. Queste immagini non vengono mostrate non solo dalla RAI in Italia, neanche da Sky, dalla Sette, da Mediaset, come posso constatare anche io. Grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Modio Rorsag.